Motore! Partito! Silenzio, prego! I fanciulli del West, 12 prima! Della fluenza del pubblico che ne dite? Ad essere sincero, io sono rimasto denuso. Loro hanno detto, potresti convincere Stan e Holly a fare un po' di pubblicità per dare slancio alla tournée? Ci sarebbero soldi in più. Hanno detto di no. Chi lo ha detto? Persona della peggior specie. Stan è stato troppo esigente con te, babe. No. Tanto tempo fa tu potevi dire addio, Oliver. Appartiene tutto al passato. Non ce l'avrai ancora con me per quello, perché ho accettato di fare un film in coppia con un altro 16 anni fa. Hai tradito la nostra amicizia, io ho amato noi due. Tu hai amato Stanlio e Holly, ma non hai mai amato me. Il medico dice che non posso proseguire la tournée, il mio cuore non reggerebbe. Dato che sei malato, mi ha chiesto se ero disposto a continuarla con un altro. Ti presento il signor Nobby Cook. Non te ne stai andando, vero Stan? Lo spettacolo deve continuare. Lo spettacolo è stato pura magia. Splendido. Che ora è adesso? Reggi questa. Ci serve veramente quel baule? Nobby Cook. 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 Grazie.